Salve a tutti! Carissimi amici di Youtube bentornati su Infinity Games con un nuovo episodio di Green Hell Ragazzi siamo qui e diciamo che stiamo andando anche abbastanza bene Abbiamo avuto un piccolo problemino per quanto riguarda quella caduta che abbiamo preso Che avete visto appunto prima nel filmato E stiamo andando alla ricerca di nostra moglie cercando di capire cosa si è successo Perché probabilmente è stata catturata da questa tribù Queste qua sono pericolosissime ragazzi Quindi vi dico stati attenti Non provate a prenderla direttamente con le mani perché ragazzi vi fate tanto male Allora in realtà io ho preso un po' di roba qui Abbiamo uno scorpioncino Un bel ragno delle banane quindi credo che sia anche questo velenoso Abbiamo abbiamo ampullaria una specie di rumaca Carne 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 di serpenti assoragli Un fungo sconosciuto dobbiamo capire che cazzo si fa Questi qua per esempio sono delle noci Il che sono ottime Contengono tanti grassi Allora ragazzi io vorrei provare un attimo a cucinare un pochino Sinceramente parlando Allora Ok Ora che abbiamo questo Lo usiamo E ci andiamo a mettere Io tengo anche altra roba tipo questa I fogli secchi Ecco qui E andiamo a cederci il nostro bel fuocarello Ok E arrivato a questo punto Io direi anche di cucinarci qualcosa Ma anche per vedere un po' di cosa Cosa possiamo cucinare ragazzi Allora beviamo intanto questo Che ci fa bene Versa No Lavora Vediamo un po' Ah ok ci ha creato Se adesso voglio mangiare uno di questo Qui dentro abbiamo questo E io posso inserire Fatemi vedere una cosa ragazzi Questo intanto si sta cuocendo Voglio vedere se posso Ah ecco ragazzi Sì Però ovviamente si brucia Quindi servirebbe qualcosa di Di più resistente Però Buono a sapersi Allora ragazzi Nel frattempo che si cuoce La nostra cena Cosa dire Allora Ragazzi a livello grafico È molto molto bene È fatto molto bene È carino Le texture sono fatte in maniera Davvero davvero Piacevole Chi è Vabbè E Ma a parte questo Anche il comparto sonoro Insomma Il gioco di per sé È realizzato molto bene Non abbiamo Chiaramente Una versione completa Il gioco non è finito Quindi vi raccomando Questa cosa L'assaggiamo un attimo Questo Vediamo un po' Ah Adesso Non vomitiamo più Perché avevo provato ragazzi E abbiamo vomitato Da schifo proprio Da schifo Voglio vedere Pure se Prendiamo il ragno Eh ragazzi Che voglio provarle Ste cose Perché altrimenti Allora Mangiamo Ah dai Adesso si Vediamo pure il nostro Bel Bello scorpioncino Così ragazzi Ci portiamo Un po' di roba Appresso E stavo dicendo Ragazzi Il gioco Non è completo Infatti il gioco Penso che uscirà A breve In maniera completa Adesso hanno Messo Diciamo così Una piccola parte Di storia Che è un tutorial Vero e proprio E un po' La modalità Sopravvivenza Ma il gioco Di per sé Non è completo Cazzo Sta per venire a piovere Quindi Non vi aspettate Grandi finali Fino a quando Appunto Non verrà Completata Diciamo La versione Definitiva Di questo gioco Allora ragazzi Per quanto riguarda Invece il gioco Di per sé È un gioco Abbastanza impegnativo Devo dirvi la verità Non è per niente Facile Da giocare Anzi All'inizio Credevo Che era Che era abbastanza Semplice Dai Da gestire Invece Purtroppo Non è così Ragazzi Non è così E Pensate che io Ho scelto La seconda Difficoltà Tra le cinque Che c'erano Quattro Cinque La seconda E vi dico Ragazzi Che è complicatissimo Cioè dovete stare attenti A dove mettete i piedi Ogni secondo Perché basta Una piccola cosa Ragazzi E siete fregati Ci vuole veramente Poco Per morire Per esempio La rana Che è passata prima Se voi la provavate A prendere direttamente Con le mani E beh La vi facevate male Ragazzi Vi facevate male Molto male Perché è un veleno Molto tossico Non conosciamo bene Tutte le proprietà Delle piante Che ci circondano Dovremmo in pratica Prendere la rana Prendere un tipo di pianta Lavorarla Applicarla E vedere che cosa succede Questo ripeterlo Più volte Fino a quando Non trovate la pianta giusta Perché Se voi andate A vedere Su molti Ecco qua per esempio Erba sconosciuta Vedete Io adesso potrei provarla A mangiare Ma se fa male Avariata Cazzo Questa è avariata Lavora che lavoro No Distruggi Via Avariata Ragazzi Ingeramente Non so se mi conviene Non lo so Vabbè Questa invece è cotta No Penso che ci facciamo male Ragazzi Dovete stare attenti A tutto quello che mangiate Qua tenivo anche Una carne essiccata Voglio provare Un po' tutto Quello che possiamo fare Con questo fuoco Ragazzi Questa è cruda Cuociamola Perché ce la portiamo Tu serve A ben poco Ci facciamo male Non è cosa Pure tu Distruggi la pila Non me la fa distruggere Va bene Fungo sconosciuto Ha variato Tra l'altro Allora non ci interessa Questo non è avariato Ragazzi Con i funghi Stati attenti Allora io intanto Mangerei O il ragno O lo scorpione Questa tra un giorno Va male Questa tra un giorno Tra un giorno Anche questo Non lo so Cosa proviamo? Proviamo lo scorpione Proteine Va bene Ragazzi Voglio un attimo Fare un po' di spazio Qui Perché C'è tanta roba Che possiamo prendere Non voglio Assolutamente Avere problemi Di spazio Ecco qui Ci siamo sistemati Un po' tutto Qua è tutto Ha variato Questa invece è cotta La possiamo prendere Ok Va bene ragazzi Questa è un'ossidiana Quindi si può fare qualcosa Con l'ossidiana Ma non da qui Vediamo un po' Vediamo un po' Ah non si può creare nulla Vediamo un po' Se prendo No Stavo facendo una stupidaggina Non serve a niente Va bene Ovviamente Non puoi fare niente Va bene Allora lasciamo stare Ok ragazzi Io direi a questo punto Di proseguire ragazzi E Voglio prendere Qui c'era Ah ecco qui No come Non tengo spazio Ma che sta lì Eh no Allora mettete qua Tu no Scusa Come stavano messe Queste cose E dalle Ragazzi questo è importantissimo Perché ovviamente Potete Accendere il fuoco In qualsiasi momento Basta del legno E quello Vediamo se adesso va bene No Ragazzi Facciamo la fibra Ragazzi Queste belle ferite Sono importanti Perciò non le voglio togliere Come devo fare E che cazzo Cazzo creo qua Che palle Vabbè Leviamo sta ciotolina Dai No però no Mi devi rompere le palle Non lo devi far pigliare Ma è incredibile Maggi No Tengo il trapano Beh ragazzi Lasciamo stare Intanto la ciotola Me la riprendo Ragazzi Lo so Ci metto tempo Per decidere le cose Perché davvero È importante tutto Qui eh ragazzi E se non stiamo attenti Rischiamo veramente Di Di morire Nel giro di pochissimo tempo Acqua sporca Vabbè Almeno Raviamoci Vi consiglio Vivamente Di controllare Sempre La vostra sanità mentale Che come potete vedere In basso a sinistra È segnato dal fulmine Ok Quindi controllate sempre E poi ragazzi Controllate in ogni momento Tutti i vostri arti Eh vedete Portano infezioni A lungo andare malattie E ovviamente Non è proprio Un bel Una bella situazione Poi E qua Fammi vedere meglio E infatti Madonna Me lo sento proprio Scendere Guardate Come dicevo Dovete stare Veramente attenti A dove mettete i piedi A come vi muovete A quello che fate Arrivati in un nuovo punto Ragazzi Vi voglio far vedere Come si Come potete salvare Le vostre partite Ovviamente Per esempio Ho realizzato Un rifugio a capanna Ma al di là di questo Vediamo un attimo Che ore sono Non so Se voglio dormire Oppure no Allora Andiamo verso nord Ragazzi Proviamo a vedere Un po' Se riusciamo A Ah ragazzi Stavo dimenticando Di prendere la cosa Più importante Una mappa Allora Io questo qua Già l'ho letto In pratica Parla di questa Tribù Che sono stati qui Questo tipo di Abadua Abadunca Come caccia Si chiamano Io adesso Voglio vedere Però un attimo Questa mappa Allora Noi Se abbiamo Se ho capito bene Siamo qui E dovremmo andare A nord Quindi in questa direzione Dovrebbe essere Così ragazzi Dovrebbe Non ne sono sicuro Ma dovrebbe essere così Noi proviamo Ad andare A nord Si credo Dovrebbe andare In questa direzione Ragazzi Ma proviamo Insomma Non è che Stiamo qua A guardarci Da tutto il giorno Stiamo semplicemente Attenti a dove Mettiamo i piedi A come ci muoviamo Perché potremmo Veramente Imbatterci In situazioni Abbastanza Non buone Vi consiglio Quando c'è molta Vegetazione Di non correre Perché ci sono Serpenti Gli assonagli Nascosti Nella vegetazione Rischiate davvero Di Questo cos'è Non mi piace Perché sto bastone Sta così Vabbè Qui c'è dell'acqua Forse è buona Dovete stare attenti Pure all'acqua Quale dovete bere E quale non dovete bere Ragazzi Acqua non si cura No Meglio non rischiare Alla tipo Tipo Vedete questa Si può prendere E io la vorrei prendere Abbiamo preso Questa erba sconosciuta Che non so A che cazzo serve Quindi Un uccello Morto Beh prendiamolo Potrebbe servire Ragazzi C'è qualcosa qui Nuova voce Vediamo un po' Controllo Controllo il punto Lambda Non l'ho capito ragazzi Tracce Tracce lasciate agli indigeni Non usano un alfabeto Solo semplici disegni Mia potrebbe aiutarmi A decifrarle Il vento fischia C'è qualcosa Dietro la roccia 46 Questi sono dei gradi Ragazzi Non è idea Non è idea Allora voglio capire Un attimo Che cosa bisogna fare Qui Se ho capito bene C'erano delle coordinate Sta porta è bloccata Noi dobbiamo passare di qua Per forza Campo di pazienza E dobbiamo capire Controllo il punto Produci e bevi L'ahuasca Che cazzo è Per ripristinare La tua memoria Ah Quindi dobbiamo bere Questo ragazzi Come si fa? Eh io non credo Che non sia semplice L'abbiamo mangiata Come deficienti Quindi dobbiamo trovare Questa Perché Ci dice Per ripristinare La tua memoria Ma Dobbiamo provare Andare qui Ragazzi Io proverei Quindi in base Alla nostra direzione Questa è la porta Dobbiamo proseguire In questa direzione Probabilmente Dobbiamo salire A sinistra Sta facendo pure Buio ragazzi Alla nostra non so dove cazzo sto andando ragazzi penso bisogna andare di qua delle mele e questo cos'è? abbiamo bisogno di un rampino che non abbiamo forse è questa la zona ah no questa è la zona del rampino vabbè però già stiamo in buone già stiamo messi abbastanza bene il fatto che dobbiamo andare di qua sta facendo buio ragazzi tra un po' non vediamo un cazzo qui c'è una cascata ah rampicante che palle ste banane subito si è... ho buttato pure quella buona siamo stanchi morti ragazzi ragazzi io non so dove cazzo stiamo infera ma sporca allora qua c'è un fiume quindi dovremmo andare di là quindi salire qui su ma come si sale qua chi c'è? qui c'è del cocco siamo stanchissimi ragazzi ma stanchi proprio forse da qui posso salire conviene anche costruirci una bella capanna ragazzi nuovo luogo ah di nuovo il rampino esplorare la giungla per trovare il rampino madonna belli cacchi ok ragazzi allora io provo a fare una cosa perché altrimenti qua rischiamo grosso eh ve lo dico costruiamo immediatamente un rifugio qual'era quello la più semplice deve essere questo ok eh ragazzi dobbiamo farlo perché altrimenti non possiamo fare nulla è meglio che salviamo perché ricordatevi ragazzi che possiamo salvare solo ed esclusivamente siamo stanchissimi vi sa se ce la facciamo solo ed esclusivamente se noi abbiamo appunto questa capanna oppure altri tipi di rifugi ma in realtà qui non sta scritto tutto in maniera molto precisa dettagliata quindi non vi potete sbagliare ma in realtà siamo morti uccisi e dai bello è che non abbiamo neanche che palle dobbiamo trovare dei bastoni lunghi ragazzi e non ne abbiamo non ne abbiamo quindi dobbiamo per forza buttare a terra qualcosa speriamo di riuscirci prima che cadiamo a terra e ci viene un collasso quindi ragazzi come volete vedere è molto complicato bisogna tenere sotto controllo sempre la sanità mentale perché veramente si rischia di brutto ragazzi spero di riuscire in tempo prima che moriamo perché altrimenti qua un altro bastone lungo che palle non so per quanto tempo possiamo durare ragazzi ve lo dico non abbiamo più energia siamo ormai senza energia ragazzi quindi a quello che succede no 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 è grave ragazzi quando svenite perchè possiamo andare incontro a tantissimi problemi Allora, intanto adesso che abbiamo le energie giuste Per poter prendere un bel po' di roba Recuperiamole subito Mi serve della palma Dai, dai, dai Dopo è meglio che spezioniamo pure il corpo Perché quando sveniamo O dormiamo a terra Cosa che io ragazzi vi sconsiglio vivamente Perché veramente rischiate di brutto Aspettate, sennò qua Di essere attaccati da parassiti Altri tipi di insetti E questo non è buono ragazzi Perché dopo veramente dovete Uccidervi per trovare Il modo per potervi curare E quant'altro Quindi io vi consiglio sempre di stare molto attenti A dove dormite Se potete cercate di dormire sempre All'interno dei rifugi O su delle amache Che troverete all'interno delle mappe del gioco C'è un serpente assonale Madonna ragazzi Per quanto Mamma mia ragazzi Per quanto Ufff O per me l'abbiamo un po' di cena Avete visto ragazzi come vi bisogna stare attenti a tutto Dai dobbiamo dormire Dobbiamo riposare bene Perché stiamo uccisi ragazzi Allora Intanto ci sono anche delle bestie Perché io le sento in tutto questo Quante ne mancano Quante ne mancano Quante ne mancano Ok L'abbiamo fatto ragazzi Allora Ora Prima di salvare Voglio spezionare un po' Ecco qua Mamma mia Guarda Sono da per tutto Ste bestioline E portano malattie Che sono qualcosa di allucinante Ok Ok ragazzi Ora voglio salvare Vedete Una volta costruito il rifugio Esattamente come vi ho fatto vedere io Tenete premuto Selezionate il vostro slot E giù In basso a destra Salvataggio in corso Solo ragazzi In questo modo Potete Appunto Salvare le vostre partite Quindi potete fare pure 10 ore di gioco Poi a un certo punto Morite o venite colpite A un serpente a sonagli Non sapete come cazzo curarvi Se morite ragazzi Vi fate tutto da capo E questa è anche la difficoltà del gioco Quindi riuscire a stare bene Fino a quando non troverete appunto Non avete la possibilità Di poter costruire La vostra capanna Per poi Dormirci dentro E salvare Ok ragazzi A questo punto Io Mi addormento Voglio finire il video Che ci svegliamo A un orario Decente E 10 del mattino Va più che bene Ma io direi pure alle 8 Ecco qua Piove Che fa schifo Vabbè ragazzi Direi di terminare qui questo video Io vi lascio appuntamento Con il prossimo video Sempre qui su Infinity Games Sempre qui con l'inferno verde Con Green Hell E vedremo un po' Che succede Se riusciamo a trovare Anche questo maledetto rampino Per riuscire a salire qui Ragazzi Questo non lo so Speriamo veramente Di riuscire a trovarlo Altrimenti Siamo fregati Quindi Infinity Games È tutto E ci vediamo al prossimo appuntamento Ragazzi Vi raccomando Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale E sono contento Che man mano Si stanno iscrivendo Tantissime persone E questo mi fa Veramente tanto piacere Ragazzi E in più Vi ho detto Iscrivetevi anche voi E lasciate un bel like Se il video vi è piaciuto Se il gioco Vi è piaciuto Ed è interessante E ragazzi Cliccate sulla campanella Per restare sempre aggiornati Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti